E' elegante, armoniosa, aristocratica e popolare al tempo stesso ed è considerata nell'accostamento dei colori e per i simboli che contiene una delle bandiere più originali e belle del mondo. E' il drapò, dal 1995, bandiera ufficiale e simbolo della regione Piemonte, che sventola su tutti gli edifici pubblici della regione e accanto al tricolore e al vessillo europeo. La bandiera del Piemonte venne adottata la prima volta il 15 agosto del 1424 da Amedeo VIII, detto il Pacifico, il primo ad assumere il titolo di Duca di Savoia. Il vessillo, che i piemontesi chiamarono subito il drapò, fu originariamente destinato al figlio primogenito del Duca in occasione della concessione del titolo di Principe di Piemonte a pannaggio dell'erede al trono. Ispirato alla bandiera della Savoia, il drapò presenta un contorno azzurro, il cosiddetto azzurro Savoia, mentre la croce al suo interno è sormontata dal lambello, il caratteristico simbolo araldico che contrassegna la primogenitura. Più tardi il drapò venne adottato come vessillo ufficiale dai Savoia ed esibito in prima linea sui campi di battaglia. L'autentico drapò piemontese ha anche le frange dorate e lunghe 7 centimetri che contornano tutta la bandiera e rappresentano l'ideale unione di tutti i paesi del Piemonte. L'essenza e il significato del drapò sono spiegati nei versi del saggista piemontese Sergio Donna. Bordato con i raggi dell'aurora, lambello e cielo azzurro fan corona, a bianca croce ardente in rosso fuoco.